Buongiorno ad Abiettivo News. Oggi 28 marzo è Santo Stefano Harding. Oggi ricorre la giornata mondiale dell'endometriosi, istituita per porre l'attenzione su una malattia che può essere fortemente invalidante per le donne che ne soffrono. Solo in Italia riguarda 3 milioni di donne, ma che il 90% delle persone non conosce. Colpisce l'apparato riproduttivo femminile può compromettere la fertilità e la qualità della vita se non affrontato da specialisti e per tempo. Per diffonderne la conoscenza anche alle donne più giovani ed evitare che le altre si rassegnino al dolore, il 28 marzo di ogni anno si celebra questa giornata perché il dolore non va accettato come normalità.